Periodicamente sul tema dei vaccini spunta fuori uno spirito di polemica, si aprono discussioni talvolta dal carattere pseudoscientifico, vengono presentati da improvvisate campagne sensazionalistiche i vaccini come una minaccia, soprattutto nei confronti dei bambini. Bisogna fare attenzione, far vincere la prudenza, perché la prevenzione vaccinale è stata una delle strumentazioni più efficaci nella lotta contro la malattia, contro malattie che erano epidemie, contro malattie che erano falcidie per la vita e credo che la Puglia in questi anni, con il ricorso a una cultura della prevenzione che aveva anche nei vaccini un suo strumento strategico, abbia lavorato bene per salvaguardare la salute, soprattutto dei più piccoli, che sia la comunità scientifica a evitare una deriva in cui argomenti al limite della superstizione rischiano di produrre effetti sociali negativi e sgradevoli. Dico questo il giorno in cui presentiamo come Regione Puglia il piano per il vaccino contro la meningite. Sono sempre molto sporadici i casi di meningite, tuttavia sono, come posso dire, un campanello d'allarme che ogni tanto qua e là suona e mette inquietudine, sembra quasi di regredire a un tempo passato quando le famiglie venivano flagellate da malattie di questo tipo. Il vaccino contro la meningite è un altro pezzo di quella strategia di prevenzione, di diffusione di una cultura della prevenzione, di farsi carico in un rapporto naturalmente sempre di consapevolezza da parte degli utenti, farsi carico di ciò che oggi è necessario fare, far crescere il dibattito, ma far crescere anche, far maturare un modello di comportamento che assume la prevenzione come scelta. ecco, questo è il vaccino contro la meningite, l'occasione per scegliere attraverso la prevenzione di non correre rischi.